Ehi, tu chi sei? Cosa? Mikasa? Conosci il mio nome? E beh... Ma come? E mo' come glielo spiego? Per la tua fama nel corpo di ricerca! Ma bene, sei anche tu un soldato? Beh, più o meno sì, dai! Cosa sei di lui su questo mondo strano? Beh, che dire, è strano ed è un mondo... Non perdere tempo, Mikasa, questo mi sembra più stupido del bestia. Cosa? Lì vai? Ci conosciamo? No, 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 è sempre per fama! Ok, buono, mi interessa, ora abbiamo una missione da compiere. E quale sarebbe? Trovare l'unica persona che potrebbe darci una mano. E chi? Era Jäger. Cosa? Proprio lui? Bene ragazzi, ora che sappiamo la missione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Non vi costa nulla e per me vale tantissimo. Inoltre vi ricordo che se volete supportarmi su Fortnite, vi basterà aggiungere il mio codice creatore nel negozio divano994. Ma lo sapranno anche i muri. Bene, partiamo. Anzi, tu Mikasa? Sì, ordini del capitano. Hai capito il fifone, mando avanti le ragazze. Non dirgli che te l'ho detto. Iniziamo dal lettore di guardia. Ah, non vuoi che si ripeta la tragedia del castello di Utgard? In realtà pensavo che potesse essere lì, ma tu come fai a sapere queste cose? Ah, me l'ho sentito dire, sai, da quei pettegoli di truppe. Eh, ok, eccola prima. Ok, c'è qualcuno, devi difenderti. Usa la spada? No, 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 in questo mondo non funziona, usa l'arma che ti ho dato. Come così? Cavoli, hai già imparato, ma è incredibile. Prima controllata quanto parere non c'è. Tranquilla, ancora ne mancano. Ecco un'altra, ora entro. Aspetta. Oh no, un'altra, voglio. Oh, mannaggia, ho cercato di avvertirla. E l'altra torre, ma niente Eren. Sa dove si è cacciato? Anche questa nulla. Ma aspetta, quella sagoma. Sì, è un gigante colpiamolo. Ma sicura che si faccia così? Vuoi segnarla a me? Vabbè, no, di certo, ma non ti manca qualcosina? Oh certo, è il dispositivo di manovra tridimensionale. Eh, esatto. Cavoli, dove sarà in questo strano mondo? Ah, non ho idea. Tanto Eren non era neanche in questa. Ja. Ehi, e tu chi? Ah, io. Beh, non ha trovato Eren, ma ha trovato un nemico. Che poi più o meno siamo lì. Cosa? No, 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 spoiler. A quanto pare non hai nessuna delle torri. Eh, no, a quanto pare no. Ehi, aspetta, ma quello? Cosa? È un gigante. Prendi questo. Oh, cavoli, questi vedono giganti ovunque. Guarda che finto. Mi ha fregato, lo ammetto. E me ne sono accorto. E quelli chi sono? Non lo so, ma nel dubbio starella la... Notto che mi ascolta molto. Non mi sfuggio io. Nada, non è andata come speravo. Proprio per nulla. Ah, che non mi trovo benissimo con queste armi. Eh, ci credo. Per te ci vorrebbe tipo... Una casa panca del colpo di ricerca. Esatto, una roba del genere per assurdo. No, no, è proprio qui. Cosa? Ah, bene, finalmente il dispositivo di manova tridimensionale. Sì, ma devi anche ricordarti come si... Stai, ancora, hai, di nuovo. Usa. Non sta andando male, però. Effettivamente ci sta prendendo la mano. Ora colpisci questi cantini di legno. Ottima idea, Miro. E attacco. Oh, spettacolo, uno è andato. Altro lì, forza, e no. Ecco, queste sono due. Poi tre. Ancora uno. E siamo a fatto. Bene, dritto sul coppino. Ora posso rilassarmi un attimo. No, quello di Gioi. Oh no, mi sono rilassato troppo. Devo recuperare di nuovo quelle armi. Credi davvero di ritrovarle qui? Sì, certo. Cavoli, aveva ragione. Wow, stavolta abbiamo anche la lancia pulmine. Forte, ma non so come usarla. Beh, prova su questo edificio. Se sei fuori, se ci fanno pagare i danni. Ma in questo modo si rigenera tutto. Beh, qua non ci sa mai. Continua, forza. Ah, bene, dai, se non vincere l'obiettivo. Non ci finite. Oh, ma come? Portiamoci di qui e continuiamo a imparare con il dispositivo di manovra. Beh, in realtà sto andando bene. Guarda, forza, attacca quelli o no. Cavoli, manchiati di brutto. Ancora. Nada. E di nuovo. Sì, li ho presi. Attento. Ecco, lo sapevo che sarebbe finita così. Bene, ora che li abbiamo ripresi, forza. Ah, bene, altro obiettivo, siamo a 4 su 8. Ma non mi interessa, devi imparare a colpire i nemici con la lancia a pulmi, è importante. Oh, giusto, quali? Presente quella porta a miglia. Ma che cavolo, è la mira di uno stormtrooper con sti cosi. Ancora, forza. Nada, non è nada. Ma non ci capisco. Mikasa. Mikasa. Capitano. Ehi, Cap. Non avresti dovuto trovare Eren. Ma la stavo aiutando. Eh, questo è un caso disperato. Ehi, non sei molto gentile, però. Non è colpa di Mikasa se è un disastro come insegnante. Cosa? Cosa? Faccia stare, ci penso io, mi basterà una partita. Sì, voglio proprio vedere. Oh, partiamo male, che seccatura. Eh, niente dispositivi qui, ma come faremo? Esamineremo tutte le altre strutture identiche a questa. Non può essere un caso aver trovato le stesse cose nello stesso punto. È acuto il ragazzo. Infatti, eccoli, forza, prendi. Sì, sì, un attimo con calma, eh. Ok, ora fai fuori quelli. Con questa flemma non mi ispiri molto, bro, eh. Ho capito, ti faccio vedere come si fa. Per tutti i colossali. Continua su, forza. Sì, sì, arrivo, maestro Yoda. Ora ci siamo. Incredibile, manca poco di aver completato tutti gli obiettivi. L'ha fatto solo una partita. E adesso? Oh, spacchile vai, spacchile. Bene, perfetto. Ora è tutto chiaro. Chiarissimo, maestro. Capitano. Eh, sì, scusi, capitano. Ho fatto confusione. Capitano, capitano, mi sente? Cosa? Ma è Mikasa? Mikasa? Come fai a parlare? Tecnologia del nostro tempo. Un giurassico come te non può capire. Ma lo ho capitato, Eren. Cosa, davvero? Perfetto, aspettami lì che andiamo. Eh, veramente io starei già qui. Oh, mamma, e dove penso che sia? Eh, Eren, eccoiti finalmente. Io non mi avvicinerai troppo, per sicurezza. Mikasa, voglio stare solo, vattene. Dai, sei più gentile, però. Ho detto vattene. Vabbè, Mikasa va per carità, ci penso io. E Renuccio? Cosa vuoi? Partiamo bene. Ah, devo andarmene di qui. Ho capito, hai scoperto tutto, eh. Tu cosa ne sai? Beh, più di quanto immagini. Non ce la faccio più, giuro. Eh, Maggi, non so cosa è successo. Non lo dico solo perché non sono convinto che tutti siano arrivati a questo punto dell'anime. Anche se penso di sì, in realtà. Io non posso. E invece tecnicamente puoi, anzi, farai anche troppo. Ora che faccio bisogno di sfogarmi? Ma chi ne dici di sfogarti spaccando tutto? Cosa? Posso farlo? Beh, mi sembra che tu lo stia già facendo. È quasi tutto mezzo paese. E allora ci proverò. Bene, meglio. Magari lo aiuta. Ancora? Sì, ho capito, ma non puoi lanciarle a caso. Guarda che finiscono, eh. Tu in arancione, prendi questo. Oh, continua qua con una lancia fulmine. Che crossover. Me ne è rimasta solo una. Lo vedete di andarci piano. E ora che faccio? Beh, cerchiamo le altre. Oh, non si trovano. E allora usa le altre armi, dai. E prendete questo. Oh, cavoli, pure queste sa usare. Ne ho visto un altro. È proprio una macchina da guerra. Effettivamente dovevo capirlo. Cos'è quella specie di tempio? Entraci, entraci, potremo trovare... Una cassa panca del corpo di ricerca. E bingo, ragazzi. Bene, c'è il dispositivo di manovato tridimensionale. Vado. E ancora. Oh, l'ho fatto fuori stile corpo di ricerca. Farà quello. Non me lo faccio ripetere. Bravo, bravo. Manca poco. Offriamo i nostri cuori. Sì, capitano Eren. Attacchiamo. Ah, mancati. Di nuovo. Ah, non ci siamo ancora. Non è possibile. No, amico, sarebbe meglio... Darsi una calmatina. Non voglio cambiare l'arma. No, Eren. Cavoli, peccato. Però almeno forse questo mondo si è evitato alla fine totale. Bene, ragazzi. Ebbene, sì. È arrivato out su Fortnite. Attacco un Titan, per farvi capire. Non so in quanti di voi guardino l'anime o legano il manga. Però a me piace tantissimo. Spero che vi piaccia anche questa espansione di Fortnite. Perché io l'ho adorata. E non è ancora finita, secondo me. Sa cosa aspettarmi, effettivamente. Tra l'altro, che altro anime manca? Forse One Piece. Vedremo. Bene. Io spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Spero che Eren stia calmo, almeno in questo mondo. Già, oggi l'ho visto con segni di squilibrio e non è che mi piaccia molto. Ma il chiavato lo rinchiudiamo con bananita. Qualcosa succederà. Ripeto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Se ne vorreste altri. Oppure se volete anche solo supportarmi. E vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il mio libro. E sorpresona, a un certo punto, ci sono anche dei personaggi di Attack on Titan. Uno in particolare. Capite a me. Bene. Ma prima di chiudere, io direi di andare a un velocissimo angolo dei saluti. Saluto Gabri Maker. Visto oggi mi è piaciuto tantissimo. L'ho amato. Sta parlando ovviamente del film di Super Mario. Perché l'altra volta ho fatto un gioco di Super Mario. Anzi, più di uno in realtà. E allora ho chiesto se andavate a vedere il film. A voi è piaciuto, vedo. Perché ho visto un po' di commenti. Effettivamente è piaciuto. E niente, sono contento. Intanto vi saluto. Poi saluto Dragonite Saturno. Ciao. Poi saluto DeGameraldo. Io ci vado sabato il giorno prima di Pasqua. O almeno credo. Spero che tu sia riuscito ad andare. Purtroppo leggo adesso il commento. Comunque spero che ti sia piaciuto. Saluto Marco Galanti. Ciao Vano, come stai? Mi piaciute di fare anche più video su Super Mario. Continua così, sono grande. Ciao. Effettivamente mi diverto. Mi vedo su Super Mario. Vi dico la verità. Ho fatto l'ultima volta. Vabbè, a parte questo qua. Che è stata praticamente la compilation di giochi di Super Mario. Ho fatto con i Rabbids. Non è andato benissimo. Ma non so se erano i Rabbids o che cosa. Spero che sia comunque presto un altro Super Mario. In modo da poterci giocare. Saluto i Gamer Comics. Poi un ciao a Cristian. Non vedo l'ora. Ci andrò domani. Bene, bene. Sono contento. E ragazzi, ne vale veramente la pena. Se vi capita andare. Saluto Cartume97. Se tutto va bene, andrò sabato. Spero che tu sia riuscito ad andare. E non vedo l'ora di vederlo. Bene, sono contento. Ciao. Bene. Io ringrazio comunque tutti quelli che hanno commentato. Se vorreste riprovare ad essere salutati, commentate con... Hashtag Leviano. Un po' Leviatano. Però non è quello. C'è tra niente. Va bene. Io comunque vi saluto. Vi ricordo che tutti i giorni esce il nuovo Shorts. Forse martedì l'ho fatto uscire. Ma perché sono un po' preso con una cosa che poi vedrete più avanti. E noi ci vediamo, come sempre, mercoledì e venerdì. Con altri due nuovi video lunghi. Bella raga. Ciao. Speriamo che non rompa Fortnite quel pazzo. Mamma mia. Bisogna tenere un legato davvero. Me Hep apoia. Muui bambi. Ci forheen. Mi sta... E tu... Già. Mi bella.